Attorno a questa fiera ci girano gli interessi di tutto il territorio, alcuni posti di lavoro che sono una piccola goccia nel mare dei bisogni che abbiamo in questo territorio, ma che sicuramente fanno piacere a questi ragazzi, a questi studenti che per due mesi hanno la possibilità anche di godere di questo tipo di intervento. Siamo arrivati al lavoro per il prossimo anno con una fiera che è andata bene in linea con gli anni passati e questo ci dà la forza e l'orgoglio per continuare a lavorare con determinazione. Siamo pieni di orgoglio anche per il riscontro degli artigiani che oltre a lavorare qua in fiera riscontrano un lavoro tutto l'anno grazie anche alla vetrina che noi, che noi Mogor, che noi la comunità diamo a tutti quanti. Per il prossimo anno cercheremo di ampliare gli spazi espositivi perché sempre più artigiani richiedono di partecipare alla nostra fiera e quindi questo è un qualcosa che ci promettiamo per il prossimo anno. Gli eventi collaterali che abbiamo pensato per la 62esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna sono andati davvero molto bene come amministrazione, siamo davvero entusiasti di tutto ciò. Gli eventi sono stati partecipati non solo da tutta la popolazione mogorese ma anche da molti eplici turisti che hanno potuto effettuare questo bellissimo viaggio all'interno delle eccellenze della nostra isola. Ancora una volta gli eventi collaterali si sono definiti un catalizzatore di crescita non solo per la nostra comunità ma per tutto il territorio del Partemonti. L'esperienza è nuova per me, ci sono state tutta una serie di difficoltà che dipendono da tantissimi fattori, è stato molto interessante il rapporto con gli artigiani, scoprire il rapporto con gli artigiani, anche ricevere qualche critica che se devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi ho ricevuto complimenti che insomma mi hanno anche imbarazzato e quindi reso veramente molto felice. Grazie.